Come sono andati gli allenamenti di questi giorni, poco tempo per lavorare, su cosa avete lavorato? Innanzitutto abbiamo lavorato sulla fiducia della squadra, della prestazione fatta contro la Regnatese, di aver vinto in 10 contro 11 non era semplice, quindi ha dimostrato ancora una volta che quando si è compatti, quando si fa tutta la prestazione, quando il gruppo crede in qualcosa di importante, che chiaramente è cercato di vincere le partite, poi è arrivato anche il risultato. Quindi ho lavorato molto sulla fiducia e soprattutto del gioco, il gioco che dobbiamo continuare a migliorare perché abbiamo visto alcuni tratti della partita, abbiamo fatto bene, ma possiamo fare meglio. E quindi su questo aspetto qui voglio una crescita da parte della squadra, anche contro una squadra difficile come Pescara, che è una squadra che ha grande velocità, gioca sempre in avanti, pressa in avanti, quindi bisogna essere ancora più bravi noi a giocare in verticale. Sì, a proposito di Pescara, le ricordo che in un'intervista che lei ha rilasciato a Forza Roma una decina di anni fa abbondanti, parlando di Zeman che in quell'epoca era un allenatore della Roma, lei l'ha definito un maestro dell'attacco. Quali sono le contromisure che hai pensato domani per fermare questo Pescara? Che è la seconda, tra l'altro il secondo attacco del campionato, solo secondo al Cesena. Beh, Zeman non lo scopriamo mica oggi, Zeman è un maestro perché comunque ha dimostrato negli anni, con la sua filosofia zemaniana, si dice così, di poter rendere felici tanti presidenti e tanti attaccanti, probabilmente qualche difensore un pochino meno. La sua vocazione è essere offensivo perché comunque attacca con tanti giocatori, ha un tipo di preparazione, ma anche di stare in campo con giocatori specifici, perché non tutti riescono a fare quel gioco lì. E' questa anche la forza di un allenatore che con le sue idee riesce a indirizzare una squadra, a credere in quella cosa lì. Quindi anche Pescara sta facendo un buon campionato, anche se purtroppo le sconfitte poi rendono negativo magari quello fatto prima. Però si gioca contro Zeman, si gioca a viso aperto, uno contro uno, i duelli, bisogna vincere più duelli possibili, convinti delle proprie qualità della SPAL, perché noi abbiamo un po' studiato, abbiamo visto la squadra di Zeman, ma ho insistito su di noi, perché noi dobbiamo insistere su di noi, a dare ancora più forza alla squadra, un sostegno in più, qualche giocata più coraggiosa e soprattutto quella determinazione che abbiamo visto contro la Reganatese di non mollare mai e di crederci fino alla fine. Queste cose qui dobbiamo adesso supportarle con gli allenamenti e a livello vocale per cercare di dare più forza possibile a una squadra che veramente ha tanta qualità e tanta ancora da dare. Marcello Ferroni, stense.com, buongiorno mister. Volevo chiedere, tornando sulla partita con la Reganatese, che cosa le è piaciuto di più? Quindi lei ha evidenziato anche comunque la forza della squadra anche nell'uscire ad andare a vincere la partita in 10 contro 11, ma ha sottolineato anche che ci sono comunque cose da migliorare. Quindi che cosa le è piaciuto di più della partita e anche dopo l'espulsione della squadra? E invece quale, secondo lei, è l'aspetto maggiormente ancora da migliorare? Allora, mi è piaciuta la voglia di giocare. Cioè, gli avevo chiesto il coraggio e il gioco ai ragazzi, oltre alla prestazione, perché sapete bene, senza la prestazione non viene né coraggio né gioco. E questo è stato un bene, perché comunque siamo la SPAL, abbiamo una squadra di qualità e dobbiamo cercare di imprimere la nostra mentalità nella partita. Poi ci sono anche avversari che faranno di tutti per non farti giocare. Però oggi abbiamo gli esterni che sono di qualità, bravi nel 1 contro 1. Abbiamo quattro attaccanti, che per la categoria sono attaccanti importanti. Quindi dobbiamo insistere su quello lì, su giocare ancora su di loro, velo, palla avanti, palla dietro, palla al terzo, cercare la profondità attraverso le giocate corte, prima per attirare l'avversario verso di te, per poi cercarsi lo spazio delle spalle. Se vediamo che una squadra è molto chiusa, bisogna giocare a essere bravi, a giocare in ampiezza, e fare la supera numerica in fascia, per poi ritentare dentro, cioè tutte quelle cose che comunque adesso questa squadra qua, con la qualità che ha dei giocatori, si può fare. Quindi la crescita è proprio quella. Poter lavorare, però lavorando sul campo si lavora poco e si lavora sulle partite. Quindi dalla partita poi si vanno a prendere i spezzoni, diciamo, di cose fatte bene, e quelle cose non fatte bene, sinceramente, sono state poche. Perché la squadra è rimasta, come avevo chiesto, molto vicina. I reparti non sono stati lunghi, a parte qualche volta qualche errore tecnico che ci ha fatto prendere qualche transizione, ma la squadra è rimasta molto, diciamo, nei reparti vicini. Che significa? Non stare bassi davanti alla difesa. Qualche volta sì, ma di ricompattarci e di andare in avanti. Che è stata la cosa che mi è piaciuta, perché gli avevo chiesto questo. Perché stare troppo dietro poi significa metterci più tempo ad andare nell'altra parte avversaria. Mentre nel medio campo, se rimaniamo nel medio campo, possiamo fare tutte e due. Non dando tanta profondità, ma dare anche, quando recuperi palla, in due o tre secondi, di poter andare a farmare l'avversario. Voglio chiedere poi un punto sugli infortunati, a parte quelli di lungo corso. Se c'è qualche novità, ovviamente si gioca in maniera molto ravvicinata, quindi i tempi di recupero sono anche più difficili, però anche se c'è qualche novità sugli infortunati. Allora, infortunati no, però c'è da fare una valutazione su Buckel, perché comunque ha fatto 90 minuti per la prima volta. Almeno, ha fatto 90 minuti e ha speso molto. Bisogna dare un occhio di riguardo diciamo a Zilli, che ha preso una botta, anche se oggi si è allenato, quindi tutto a posto, ma un occhio di riguardo. Questo non significa che non sono andata partita, cioè lo valuteremo da oggi a domani, valuteremo queste cose qua. Mentre per rientra Fiordaliso, dalla squalifica, esce fuori Peda, e chi è che rientra? E Tripaldelli. Allora, Tripaldelli è col gruppo. Quindi oggi ha fatto la partitina, tutto a posto, siamo contenti, è contento anche lui. Mentre su Sayani, visto che ha rientrato Tripaldelli, non ha ancora qualche allenamento con noi, allora preferiamo poterlo recuperare per domenica, perché sai, il viaggio, vai, i torni, quant'altro, non ha fatto ancora allenamento con la squadra, quindi è meglio che lo teniamo, i dottori ci dicono, ancora qualche giorno, quindi ci conviene provare a recuperarlo per domenica. Questi sono, poi speriamo che dall'ultimo momento non succeda niente, perché come sempre, oggi vi dico questo, e poi speriamo che non succeda niente all'ultimo momento. Alessio Duatti, la nuova Ferrara, buongiorno mister. Lei volevo chiedere se ci può spiegare la scelta Alfonso Galeotti che ha fatto nell'ultima partita, soprattutto se dettata da un eventuale problema di gestione fisica di Alfonso, come era stato nell'ultimo periodo, oppure se è una nuova fiducia per Galeotti e se pensa di andare avanti, diciamo, su questa strada per il momento. Allora, secondo me, quando sono arrivato, io vedendo le partite, anche poi bene o male, non è che... Quando sono arrivato ho visto due portieri, ma anche gli altri due, sia Meneghetti che anche del Favaro, sinceramente, che hanno dimostrato che tutti e quattro stavano, non bene, benissimo. Ecco, questo intanto, in assoluto, è una cosa positiva. Quindi io parlo di Alfonso perché è un giocatore che bisogna considerare molto, perché ha dato molto alla spal, tra virgolette, molto significa che ha giocato anche in condizioni magari non idonee e quindi bisogna fare i complimenti anche a lui perché sai stringere i denti in certi momenti non è facile, ma lui è un professionista e anche un uomo spogliatoio. Quando ho visto la settimana ho detto chi vedo magari chi sta bene stavano bene tutte e due e stavano bene anche altre due. Quindi la decisione è su Galeotti perché comunque è un ragazzo che abbiamo avuto il ritiro e mi è piaciuto moltissimo. Il ritiro, ha fatto un ritiro veramente eccezionale Galeotti. Devo dire che io sono sceso, venendo giù il ritiro ho detto ma andiamola a giocare perché questo qui merita di giocare. Ecco, quando sono tornato ho fatto la scelta su Galeotti ma non perché Alfonso sia di meno. Ok? Ho fatto la scelta su Galeotti e domani giocherò ancora a Galeotti. Questo è il mio pensiero ma non questo, fermo restando che Enrico al momento del bisogno c'è sempre e questo gli va dato il giusto merito. Altre due giocatori che per necessità abbiamo rivisto protagonisti dopo un giro è un inizio stagione molto complicato sono stati Valentini e Bruce Cagin sono due giocatori che lei apprezza sicuramente. Ecco, al di là della buona partita quanto pensa che anche loro per un orgoglio personale dopo una prima parte di stagione non buona possano dare in questo finale? Eh, ma loro due come tutta la squadra ma anche l'allenatore stesso che vi sta parlando. tutti quanti noi abbiamo voglia di dimostrare quella forza, no? Quella capacità, quella qualità che la squadra ha nei singoli giocatori e come gruppo squadra e anche l'allenatore stesso deve trenare la corda cioè sempre tirata dobbiamo stare sul pezzo perché non abbiamo fatto niente ancora perché la prima partita è andata bene siamo stati bravi abbiamo un po' recuperato si può dire anche a livello di prestazione e anche di atteggiamento un po' di tifosi ma dobbiamo dare continuità a questo e io voglio vedere la stessa determinazione lo stesso coraggio e uno spirito di squadra elevato perché? Perché comunque per tutto cioè per quello che è successo fino in che non sono tornato io cioè abbiamo proprio voglia anche noi di poter dare soddisfazioni alla società ai tifosi a voi stessi capito? Perché per far vedere che la squadra non era con quel tipo di non era così brutta come si era prima compreso me quando c'era all'inizio quindi questo è uno dei fattori poi ci sono chiaramente delle scelte in più che si può fare perché adesso la squadra è più completa quindi sotto questo aspetto qui posso anche scegliere diversamente ok tolgo due metti due comunque c'è qualità c'è forza c'è struttura e questa è un'altra cosa positiva perché questo campionato ragazzi la classifica della spalla è una classifica che non dobbiamo guardare assolutamente io gli ho detto anche oggi ragazzi non guardiamo la classifica ma guardiamo a noi a quello che possiamo fare all'atteggiamento a quello che abbiamo dato come positività nella partita di guerra canadese quindi queste sono le cose che noi dobbiamo lavorare e continuare perché se vogliamo trascinare i nostri tifosi lo dobbiamo fare sia in casa che fuori casa con prestazioni di spessore e questo è l'obiettivo primario perché se vogliamo arrivare a Pescara e giocarsi la nostra partita bisogna avere questo atteggiamento questa capacità di saper ribaltare l'azione con Pescara perché con Pescara sicuramente succederà questo saper soffrire perché il Pescara ti attaccherà con le loro ali che sono i coi tersini che vengono sopra la sovrapposizione quindi bisogna avere anche quella capacità di soffrire ma con la convinzione che la SPAL deve andare lì con la testa per fare il risultato Buongiorno mister per i amini del resto del Carlino le volevo chiedere il ruolo di Mirko Antenucci pensa che lo utilizzerà sempre diciamo magari in oltratolo nella seconda parte della partita o valuta anche di poterlo iniziare di poterlo impiegare diversamente quindi magari al limite se Mirko fa queste cose qui mi mette in serie difficoltà Mirko ma non a me non a me cioè nel senso mi dà degli assist si può dire così perché Mirko è un giocatore fuori categoria per questa categoria ma lo sappiamo va messo nei binari giusti con la testa giusta come tutta la squadra oggi Mirko come tutta la squadra aveva voglia l'altro giorno di voler dare un segnale anche lui l'ha dato il segnale giocando ogni 3-4 giorni è un problema di scelta e anche di forma in questo caso qui perché se ci fosse una settimana di lavoro uno lo valuterebbe meglio così scarico fai allenamento cioè è troppo poco però posso dirlo ha dimostrato di voler esserci e quindi adesso sta a me dare la possibilità di partire dall'inizio oppure farlo entrare 30 minuti quello che deve succedere è che la squadra che è la cosa più importante che è successo è che deve succedere che la squadra si metta a disposizione oggi i giocatori si sono messi a disposizione di tutti con le loro qualità con la loro personalità e con il condottiero che sono io che li devo indurre e portarli a livello mentale a poter vincere a poter andare in campo e vincere le partite questo si sta creando si sta ricreando questo clima qui che è quello che serve per vincere le partite e lei mister cosa ha provato al fischio finale venerdì sera? guardate io ero più contento per i giocatori per la società e per i tifosi perché so quanto la SPAL alla SPAL ci si tiene alla squadra perché me l'hanno dimostrato all'inizio me l'hanno dimostrato domenica cioè quando abbiamo giocato era domenica? no sì venerdì scusate ma l'hanno dimostrato venerdì prima della partita fine partita però abbiamo fatto ancora poco ok quindi io devo parlare giusto non troppo e bisogna fare i fatti perché oggi la classifica ci dice che bisogna essere bisogna correre forte perché guardate le squadre che sono davanti come corrono e quindi bisogna correre anche noi ogni partita sempre ogni partita mai guardare troppo in là di una partita perché concentrazione bisogna adesso sul Pescara in uno stadio bello contro una squadra che comunque sta che ha grande gamba e velocità io mi aspetto una partita di spessore alto e di furore agonistico anche elevato perché ci vuole anche quello per vincere partite buongiorno mister sono Riccardo Fattolino dello Spalino punto com volevo farle giusto una domanda sulla difesa e sulle varie assenze che appunto lei deve affrontare e volevo chiedere semplicemente se per la partita di domani sera potremmo vedere Nador magari in quella posizione o se magari ha pensato a uno fra Bruscagino Fior da Riso ha centrato in quella posizione grazie allora la difesa non ha preso gol no venerdì non abbiamo preso gol giusto e questo è un diciamo un segnale domani sicuramente la difesa sarà messa sotto pressione e quindi anch'io sono curioso di vedere come riusciamo a rintuzzare e a ripartire ogni volta contro la squadra di Zemmina che sappiamo bene che in fase d'attacco è una squadra forte quindi sono curioso anch'io ma io sono molto fiducioso molto fiducioso ma anche curioso di capire le reazioni domani come riusciamo a saper soffrire in certi momenti della partita perché gli esterni che vengono dentro uno contro uno sovrapposizione cross e questo succederà domani per Nador e Pio Fior da Riso che sono i due uno dei due deve giocare non ce n'è uno dei due deve giocare quindi li ho provati tutti e due sono a disposizione tutti e due ringrazio Nador perché comunque da centrocampista può fare anche il difensore quindi per la sua dottilità lo ringrazio che sta diciamo sta giocando in un ruolo chiaramente che non è proprio suo ma comunque lo fa bene e quindi domani tra Fior da Riso o Centrale o Fior da Riso a sinistra e Brusca Gini Centrale o Nador Centrale uno dei due giocherà sicuramente è tutto è tutto è tutto è tutto è tutto